allora stiamo andando in questo bellissimo posto dove sarò andato tipo dieci volte attenzione ragazzi e siamo talmente tanti che sembriamo dei ragazzi che stanno andando a fare una rapina vi faccio vedere siamo veramente eccoli qua ok con noi oggi abbiamo una special guest special guest maura fpv ragazzi dimmi che cosa ti ha portato in questo posto con noi l'amore love ripeto qua tutti quanti per la prossima volta chi vuole venire a volare c'è tanto amore e costa 10 euro a testa ragazzi esatto veloci prima che ci sgamano veloci veloci che non bisogna farsi vedere dai giù in fondo c'è il check in per il pagamento dei 10 euro con noi ci sono anche oggi i tbd ragazzi che hanno un'agilità nello scavallamento che è veramente esagerata possiamo notare qua ob è giusto ciao esatto benvenuto dio che emozione detto da te frank citro è veramente assurda questa cosa perché adesso ti riprendo io adesso frank citro che piuttosto che farci una figuraccia si muore con un solo balzo eccola la madonna guarda che stile hai visto che figata qua dentro ma si sono pure scippati l'intonaco si si lo stessi cosa che cazzo se ne fanno no ma va che gigantesco questo qua come vi ho detto ci sono già venuti mille volte qua avete visto un sacco di video e oggi passeremo di nuovo una bella giornatina insieme alle nostre colonne eccole qua colonne in faccia oggi ragazzi tu sei benvenuto è di brutto oggi il trash avanza ma non è in sé per i discorsi nel video ma per le persone come si presentano da notare il suo abbigliamento quello di alberto ma c'è il muschio attaccato non sono peli cazzo lato il custode e chiami carabinieri per 5 minuti in realtà anche a catti che era dall'altra parte quindi devo scappare adesso fate quello che volete però io per 5 minuti chiami carabinieri perché dentro è pericoloso ma non è mai successo sta roba quanta gente c'è dentro allora ragazzi il video cambia direzione perché è appena passato il custode in questo momento purtroppo non è riuscito a riprenderlo spiega un po' che cosa ci ha detto ha detto che fra 5 minuti chiami carabinieri quindi vorremmo evitare ok detto questo ciao bando eccolo qua ragazzi sta arrivando e niente che ne andiamo esatto però non è sicuro no ma è che tanto volevamo stare qua nell'angolo noi non è che andavamo a piedi in giro non è che lo so però ho visto dove è passato con due persone sono passati nel vetro rotto perché se si rompe il vetro se viene tutto quello che c'è da sopra ve ammazza ecco qui fuori c'è un altro signore che mi ha chiesto appunto io adesso sono venuto ad aprire perché c'è una visita quindi arriva la proprietà con della gente no va benissimo e vabbè non vi è mai successa sta roba secondo me sono io che porto sfiga Frank no ma sai cos'è che io quando vengo qua vengo da solo e quindi sgami di me allora abbiamo cambiato posto cazzo le spine porca puttana siamo andati in un altro bando qua vicino adesso vediamo che cosa si riesce a fare c'è il fiatone senti Vecco il bando della rumenteria qua ci sono pali e corridoi e adesso come ci entri dentro tutti questi bei pali in faccia pali in faccia ok stiamo cercando il canale ragazzi vogliamo farvi vedere il Frank perché vuole scusate la facciamo no non lo fa ok ecco qua eh no stai cercando ragazzi stiamo ricercando i canali eccolo qua allora guardate Frank cosa ci combina scusate la qualità purtroppo cellulari su cellulari però oggi sono messi così riuscite a capire comunque a parte le bande e i Megars che è riuscite a vedere vedete cosa sta combinando Frank multi flip multi flip multi flip abbiamo una nuova categoria freestyle da quest'anno ragazzi categoria pali in faccia attenzione c'è anche una gru nuova che non c'era e sarà molto divertente perché questa questa non c'era tempo fa guarda qua che bestione sto coso guarda questa pinza gigante cat attenzione qua a non cadere perché ti fai tanto tanto male ricordo entriamo anche nella zona tetto bucato come possiamo notare il divertimento qua è assicurato dai che ci fai male a me a Frank ci fai male non c'è lo zoom oh guai a te se cadi acceleri che mi vieni in faccia guarda 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 bam minchia sei un cazzo di foe guarda un bullone un bullone ma come cazzo si è fatto io ero un bullone ma io quando vado vado duro e così qua 50 metri 3, 2, 1 via ooo capire Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vedi un cazzo qua Ma veramente un cazzo Perché non vedo un cazzo Ma io vedo proprio il disturbo Vai con la ruota vai Oh minchia Ma era passato Che cazzo da fare La prima volta si Allora ragazzi la giornata finisce qua Mi raccomando iscrivetevi al canale Schiacciate un mi piace Mettete un commento Qua c'è ancora gente che vola E già eh E quindi Niente ragazzi Ovviamente l'ultimo saluto lo lascio agli altri Andate a fare in culo Andate a fare in culo Fottetevi Tutti a fanculo A fanculo Andate a fare in culo Fottetevi